Vai Claudia, corri! Cioè, corri! Non fa quello che stai qui! Non lo so, non lo so, non lo so, sai! C'era solo a fare, non lo immagini! Non ci capite, non ci capite! No, stai facendo il video! Non fammelo camminare un attimo! No, no, non ci sono cammini! No, non ci vede perché sta tutto... Vieni a vedere, qua non ci vede! Mamma mia, è pure prognato! No, non è prognato! Come? L'ho detto che è schifo, che è? Evita il prognato! Me lo deve camminare! Non ci viene a vedere da qua, non ci vede! Vieni! Non ci vede! Perché c'è l'ombra, guarda! Io la vengo! Ma qua, è perché lo sai! Ma qua, è perché lo sai! No, così si vede che ha paura! Così, le abbatta! È proprio con la tua scuola! Eh, ho capito! Ci veniva! Eh? Vabbè! Guardi solo le foto, dai! Oggi, così! Vabbè!